Diamo dunque la prima occhiata a Drive, facciamo clic sull'icona con i quadratini, identifichiamo Drive, facciamo clic su Drive, si apre una nuova scheda del browser e in questo momento è vuoto perché giustamente non abbiamo messo nulla, l'account è nuovo quindi non troviamo nulla. Vediamo che compare un avviso che ci informa che lo spazio ci può servire per archiviare sino a 15 GB di fotografie, documenti e altro, uno spazio, devo dire, abbastanza interessante. Per esempio, che cosa vediamo qua? Cosa possiamo fare? Se io prendo un file, per esempio questo di programmazione del corso che stiamo seguendo, abbiamo visto che il file è stato caricato direttamente online, io posso vederlo da qui come anteprima, perfettamente, questo è il corso che state seguendo, e la cosa interessante è che non solo lo possiamo conservare qui e quindi possiamo farvi accesso da qualsiasi computer connesso in rete, ma possiamo anche condividerlo con persone che possono editarlo o anche semplicemente guardarlo. Per esempio, da quest'icona possiamo fare la condivisione tramite link. A questo link, se lo spediamo per posta elettronica, se lo spediamo con un sistema di messaggistica a qualcuno, questa persona che lo riceve può direttamente leggere il documento e può anche scaricarlo e stamparselo. Vediamo delle altre cose. Essendo uno spazio su disco, lo spazio è organizzabile in cartelle. Per esempio, da qui, facendo clic su il mio drive, facciamo clic su nuova cartella e, per esempio, scriviamo studenti. Creiamo una cartella destinata a raccogliere i lavori degli studenti o a materiali che vogliamo dare agli studenti, qualcosa del genere. La cartella in questo momento naturalmente sarà vuota, potrà essere riempita con le modalità di poco fa. Possiamo anche di questa cartella condividerla in tutto e per tutto, rinominarla, fare tutta una serie di cose, scaricare il contenuto, cambiare colore, per esempio, per evidenziare una cartella rispetto ad un'altra. Un'altra cosa che possiamo fare, ed è veramente molto interessante, è creare dei file. E qua vediamo che possiamo creare dei documenti, questi sono documenti di testo, dei fogli, questi sono dei fogli elettronici perfettamente compatibili con quelli di Excel, e queste sono delle presentazioni, cioè delle slide presentation, come quelle che possiamo fare con PowerPoint e perfettamente compatibili con PowerPoint. Quindi, nei prossimi video vedremo queste possibilità di creazione di file, dei diversi standard e vediamo un po' come si fa e che caratteristiche hanno.